La pandemia ha avuto un impatto significativo sull'economia italiana, un calo del PIL dell'8,9% nel 2020. Tuttavia, rispetto al 2019, i fallimenti sono calati di un terzo e, più in generale, si sono verificate meno uscite dal mercato, è quanto emerge da uno studio della Banca d'Italia. In particolare, il numero di fallimenti e quello delle uscite dal mercato sono stati nel 2020 inferiori a quelli del 2019, rispettivamente del 33 e 27%. Diminuzioni che risultano particolarmente marcate tra marzo e giugno, quando era in vigore una moratoria sulle istanze di fallimento, a testimonianza di un notevole impatto complessivo degli interventi pubblici a contrasto degli effetti della pandemia. Anche nel 2021 il livello dei fallimenti si è sinora mantenuto al di sotto di quello del 2019. Per quanto riguarda la collocazione geografica, è levemente diminuita la quota di imprese fallite con sede in regioni del centro. Tra le uscite è diminuita la frequenza di imprese situate nel mezzogiorno. Di entità contenuta anche le differenze nella distribuzione tra i settori di attività produttiva. Ad esempio, Banca Italia rileva una diminuzione della quota di fallimenti e uscite del comparto del commercio, a fronte di un aumento negli altri settori di servizi. Gli aiuti governativi a famiglie e imprese per contrastare il caro bollette sono del tutto insufficienti. I 5,5 miliardi erogati nel primo trimestre non bastano mitigare i costi addizionali che dovranno subire quest'anno gli utenti domestici e non. A fronte di un rincaro di luce e gas che per l'anno in corso ammonta complessivamente a 89,7 miliardi, il tasso di copertura supera di poco il 6%. A sottolinearlo è la CGA, che ha stimato gli aumenti energetici relativi al 2022 e, a seguito degli aiuti messi in campo dal governo Draghi per raffreddare i prezzi, anche la percentuale di abbattimento dei rincari. Secondo una stima dell'ufficio studi, nel 2022 imprese e famiglie subiranno un aumento del prezzo delle tariffe energetiche vicino ai 90 miliardi. 31 saranno in capo alle famiglie e 59 alle imprese. A rischio anche l'occupazione. Se gli aumenti dovessero perdurare per una buona parte di quest'anno, non è da escludere che 500 mila dei quasi 1,8 milioni di addetti nei cosiddetti settori energivori rischiano, anche temporaneamente, di rimanere a casa. Cresce il Fondo Unico Nazionale del Turismo e aumentano gli interventi per le aziende del settore. È quanto previsto dal DL sostegno approvato dal Consiglio dei Ministri. Per il ministro Massimo Garavaglia, il governo ha riconosciuto la fase di difficoltà attraversata dall'intera industria del turismo. È stato aumentato di 100 milioni il Fondo Unico Nazionale del Turismo, in aggiunta ai 120 milioni stanziati con la legge di bilancio. È stata accolta la richiesta di dedicare una quota, pari a 40 milioni, alla decontribuzione per i lavori stagionali e degli stabilimenti termali. In più è stato previsto un finanziamento di oltre 128 milioni come credito d'imposta da riconoscere agli operatori turistici per gli affitti di immobili. Si tratta di interventi che varranno fino al 31 marzo prossimo e sempre al 31 marzo viene prorogata la possibilità di ricorrere ai bonus terme. A ciò si aggiunge che gli imprenditori costretti dalla crisi a mettere in cassa integrazione ordinaria i propri lavoratori sono esonerati dal pagamento della contribuzione fino al 31 marzo prossimo. La misura riguarda in particolare le aziende dell'intero comparto, alberghi, B&B, agenzie di viaggio e tour operator, ristorazione, parchi tematici, terme, attività ricreative, impianti di risalita e bus turistici. Ai parchi tematici sono stati riservati 20 milioni. Si poteva avere di più, precisa Garavaglia. Ulteriori interventi vanno avviati con le risorse a disposizione del Ministero. Insomma, un bicchiere pieno a metà. La variante Omicron sta arrecando tante difficoltà alle piccole e medie aziende, in modo particolare ai negozi di vicinato, agli artigiani. La gente è poco invogliata ad uscire, c'è lo smart working che sta ritornando in auge, quindi le difficoltà sono tante. Il calo di fatturato è evidente, siamo ad oltre il 50%, si rischia di vanificare tutti i sacrifici fatti in precedenza, c'è bisogno di un intervento energico dello Stato, devono ripristinare bonus, cassa integrazione, moratoria sui crediti, sospensione delle cartelle. Grazie.